Shri Aurobindo ci dice nella prefazione del libro Giorni di prigione quando dormivo nell'ignoranza giunsi in un luogo di meditazione pieno di santi uomini e trovai la loro compagnia fastidiosa quel luogo o una prigione quando mi risvegliai Dio mi ha condotto in una prigione e ne ha fatto un luogo di meditazione e l'appuntamento del suo amore era il primo maggio 1908 un venerdì mi trovavo alla scrivania del Ban de Mataram quotidiano in lingua inglese di cui Shri Aurobindo era redattore capo quando Shri Shamsundar Chakravarti mi fece vedere un dispaccio proveniente da Mazzafarpur vi lessi che una bomba lanciata in quella città aveva ucciso due donne europee ne seppi di più nell'edizione di quel giorno dell'Empire dove c'era una dichiarazione il commissario di polizia sappiamo, diceva chi è implicato in questo attentato e i colpevoli saranno presto arrestati a quel momento ignoravo di essere il primo incriminato e agli occhi della polizia il principale assassino l'istigatore e il capo segreto del movimento dei giovani rivoluzionari ignoravo anche che quel giorno sarebbe terminato un capitolo della mia vita che davanti a me si profilava un anno di prigionia durante la quale tutti i legami della mia vita sociale sarebbero stati tagliati un lungo anno che avrei dovuto trascorrere come un animale in gabbia bandito dalla società e che uscendo dall'ashram di Alipor colui che avrebbe reintegrato l'ambito della nazione non sarebbe stato più il vecchio Aurobindo Ghosh che tutti conoscevano prima ma un altro uomo dotato di un carattere di un'intelligenza una forza vitale e uno spirito nuovi incaricato di una nuova missione ho detto un anno di prigione ma dovrei piuttosto parlare di un anno di vita eremitica un anno in un ashram da lungo tempo con accaniti sforzi avevo voluto trovare al fondo di me stesso Narayana e contemplarlo faccia a faccia avevo anche nutrito l'ardente speranza di avere per maestro e amico il signore del mondo Purushottama ma attratto da mille desideri attaccato ad ogni sorta di attività immerso nelle tenebre dell'ignoranza non ero riuscito ad arrivarvi e tuttavia alla fine il signore Vishnu l'onnicompassionevole fonte del bene universale mi facilitò il compito annullando in un sol colpo tutti gli ostacoli lui stesso mi assegnò un ashram per il suo yoga e venne di persona a condividere quel piccolo eremitaggio della mia sadhana lui mio guru e compagno quell'ashram fu la prigione inglese durante la mia vita ho osservato molte volte questa strana contraddizione i servizi che mi hanno reso gli amici meglio intenzionati non hanno mai valso quanto quelli resi dai miei nemici ma devo chiamarli così dal momento che di nemici non ne ho affatto costoro venivano per farmi del male e non è seguito che del bene e dunque il solo risultato della collera del governo britannico è stato che ho trovato Dio l'obiettivo di queste pagine non è di descrivere la storia della mia vita interiore in prigione voglio soltanto riferire alcuni fatti esteriori ma temendo che i lettori siano inclini a pensare che la sofferenza sia l'essenza stessa della vita di un prigioniero mi sembra opportuno all'inizio di questo articolo menzionare la nota dominante di quei giorni di prigionia non furono certamente esenti da pena ma nell'insieme si susseguirono nella gioia quel venerdì sera mi ero coricato senza la minima inquietudine la mattina successiva alle 5 fui svegliato dalle grida sconvolte di mia sorella che entrò precipitosamente nella stanza un istante dopo quello spazio stretto fu riempito di poliziotti armati il commissario Cregan mister Clark dei 24 Pargana l'amabile e allegra silhouette del famoso Vinod Kumar Gupta alcuni ispettori e detetti seguiti dai turbanti rossi e da testimoni per la perquisizione pistola alla mano accorrevano accaniti come se avessero dovuto assalire a colpi di cannone e baionette una fortezza ben custodita seppi perché non ne fui direttamente testimone che uno di questi eroi dalla pelle bianca aveva puntato la pistola al petto di mia sorella io ero seduto sul mio letto ancora mezzo addormentato quando Cregan mi domandò chi è Aurobindo Ghosh è lei sì risposi sono io Aurobindo Ghosh subito dette l'ordine a un poliziotto di arrestarmi siccome Cregan aveva usato un termine impreciso ne seguì una discussione tra i due io chiesi di mostrarmi il mandato di perquisizione lo lessi e lo firmai vedendo che si faceva riferimento a delle bombe mi conclusi che questa eruzione della polizia fosse legata all'attentato di Muzaffar pur mi stupì solamente del fatto che prima ancora di aver trovato in casa la minima traccia di bomba o di altro esplosivo venissi arrestato senza che fosse esibito un mandato di arresto ma non sollevai alcuna obiezione non sarebbe servito a niente in seguito per ordine di Cregan mi furono messe le manette e mi fu allacciata in vita una corda di cui un agente di polizia indiano teneva l'estremità in quello stesso momento i poliziotti fecero entrare Abhinash Battacharya e Sailendra Basu manette ai polsi e corda alla cintura ma circa una mezz'ora più tardi ignorai per ordine di chi ci liberarono dalle corde a sentire parlare Cregan si sarebbe detto che si era introdotto in una tana di bestie feroci senz'altro per lui non eravamo altro che dei selvaggi dei bruti dei sovversivi verso i quali era inutile mostrare gentilezza tuttavia dopo aver lasciato esplodere la sua collera il nostro uomo si addolcì un poco poiché Vinod Babu si era sforzato di dargli qualche informazione a mio riguardo Cregan mi chiese lei è dunque laureato non si vergogna lei un uomo di cultura di vivere in una casa come questa dormire per terra in una camera neanche ammobiliata sono povero risposi e vivo come i poveri allora è per denaro che ha fatto questo colpo di mano vociferò non cercai nemmeno di spiegare a questo inglese dall'intelligenza ottusa evidentemente incapace di comprendere la grandezza del voto di povertà dell'oblio di sé e dell'amore per la patria viene portato poi ad Alipor insomma è tutta una lunga storia che sarà bello magari leggere a pezzetti ma lui poi dice nella solitudine di questa prigione mi fu data una meravigliosa lezione d'amore ad Aliporo scoperto la profondità che può raggiungere l'amore dell'uomo per tutte le creature viventi e come il cuore può trasalire di gioia alla semplice vista di una vacca di un uccello o persino di una formica e poi c'è un'altra pagina ogni essere umano salvo poche rare eccezioni e schiavo delle circostanze esteriori e prigioniero delle sensazioni che provoca in lui il mondo fisico tutte le sue attività mentali dipendono da impressioni esterne e anche la sua intelligenza incapace di oltrepassare gli stretti limiti della materia le sue emozioni gioie e sofferenze non sono che l'eco di avvenimenti esteriori di fatto è schiavo del suo corpo il creatore del mondo dice l'upanishad ha dotato il corpo di aperture rivolte all'esterno in modo che lo sguardo dell'uomo si volga verso ciò che lo circonda e nessuno guardi dentro se stesso rare sono le grandi anime le nature incrollabili che nella loro sete di immortalità volgono gli occhi verso il loro essere interiore per contemplarvi il volto del sé dopo un anno sarà liberato grazie all'intervento di questo avvocato avvocato Das che con una famosa ringa convincerà i giudici inglesi dell'innocenza di Sri Aurobindo poi verrà ancora perseguitato fino a che si rifugierà a Pondesceri e dopo qualche tempo lo lasceranno in pace grazie 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 a tutti